Allora, vi ricordiamo che la Walcol hanno fatto le mini casse della Befanna. Hanno fatto i casse lottini delle piccipesse incattate di Walcol, di Dinosaur Pork, Park, Dinosaur Park, di My Little Pony e di 44 gatti. A proposito, guardate il nuovo sfondo di cuovo che abbiamo cambiato. Comunque stiamo registrando il 22 dicembre 2023 e abbiamo cambiato il sfondo dal 21 di sera. Capito? E poi la Dolphin qualche giorno fa ha fatto anche il sito della casa della Befanna Dolphin per l'Epifania 2024. Adesso sigla! Anteprima Epifania 2024! Con noi nell'anteprima Epifania 2024 c'è... Lauro Laurinius! Ciao! E Uva Ryan! Ciao! E ci sono anch'io, Paolo Pauliniuv, quello... Sì, lo so! C'è... c'è la calza di Sonic! E c'è anche la calza di me contro te! L'hai invitato per questo, vero? Sì! Qua, nelle mini calze, allora! Nelle mini calze della Befanna! C'è... la calza di me contro te! Vero? Sì! Sì, Lauro! La calza di me contro te! Uuuuuh! Eeeh! Guardate! Forse lo voglio anche quella mini calza della Befanna! Allora, avevo chiamato la Dolphin... Qui? Eh... chiamati due anni fa! Chiamavi anche a me! Befanna! Voglio che la Dolphin facesse le calze dei me contro te! E la doccia preziosa che l'ha fatto? L'anno scorso! Voglio che la Dolphin facesse le calze dei me contro te, subito! E la doccia preziosa che l'ha fatto? Quest'anno! L'hanno fatto! Guarda! Sei contento? Sono molto contento, sì! Contengono con me i dolci... le... le... le dolcesse... sempre dei polaretti... E tanto altro! Come abbiamo fatto vedere l'anno scorso... l'anno scorso nella calza della Befanna... Di Blui... e di Ovosauro! Che sono sempre le stesse... dolcesse! Guarda! La calza della Befanna di Sonic! Sì! E lo vuole anche Paolo! Sì! Lo voglio anch'io! Poi le mini calze della Befanna sono da... 50 grammi... e costano circa 3 euro! Lo potete comprare! Assieme alla calza Kinder di... Dicelo! Dicelo! La calza Kinder di Super Mario, ok? Lo voglio comprare! Comunque nelle mini calze della Befanna... potete trovare gli adesivi o sticker eccetera eccetera... Non si sa se si trova nella calza... Poi abbiamo Blui... quello dell'anno scorso mi sembra... Quella di Alvi... quella di Bing... quella di Aysel... quella di Ovosauro... e quella di Emoji... Poi vi ricordo che... Mattel, Barbie e Otis non ci saranno nell'epifania di Otis... Speriamo anche... anche... speriamo anche nella Pasqua... vediamo! Sì! Si risolve tutto! La Kinder fanno sempre Barbie e Otis... per sempre! Sarebbe bello ma non funziona mai! Non funziona mai... è Befanna! Ok... La calza da 160 grammi puoi trovare Pinocchio... Qualco? Fai schifo perché se metto... ho di un cartone per bambini! Di Blui... Di Alvi! E degli Emoji guarda che hanno cambiato la calza... Guarda che brutto questo tizio! È il tizio da Bamo Natale! Gli Emoji rimangono sempre gli stessi la Dolphin! Speriamo che togliono per la Pasqua quelli degli amici della fattoria... Vediamo! Guardate com'è! E poi di novità... Come case della Befana... Come Sonic... C'è Memarse... Memase... Che regalo gli sticker... Con sorpresa! Fa bene! Memase... Con la sorpresa! Ok... Ma... Nelle casse della Befana che quelle da 160 grammi... Potete trovare... Gli stickers... O gli stickers... O anche il memory a caso vabbè... Per la calza da 190 grammi potete trovare i... Me Contro Te! Che con l'ammazzi sorpresa originale è la calza ufficiale dei Me Contro Te! Sì! Si trovano queste sorprese! Ci sono le due versioni dei Me Contro Te... Dove c'è con lui e Sofì... Il Signore S... E i due Chihuahua... C'è anche un'altra versione con lui e Sofì che... Non lo sapevo di quelle freccette, Lauro! Eh... Guarda... Ma sei scemo! Hanno fatto anche Albi... Diversioni... Brui... Ma che... Che sei scemo! Sei una strega! Sono strembele delle calze dell'anno scorso! Va bene... Comunque non li fanno vedere le sorprese perché sono tirchie... E si trovano queste sorprese che si trovano nelle uova di Pasqua! Come quelle di Brui! Esatto! Come quelle di Brui! Ma anche Bing ha cambiato la calza da Befana! Guardate com'è carina! E una cosa da Bing! Bella! E qua c'è sempre l'altra scala della calza dell'anno scorso! Ma che ha cambiato la confessione di Bing... Sofì che sorprese le calze Befana da 190 grammi! E poi c'è la calza di... Sonic! Sonic io voglio quello che corre! Va bene! C'è! C'è! C'è con le due versioni! Sonic è quello che corre! Sofì sofì che sorprese Sonic the Hedge! Ma quest'anno non lo prenderò probabilmente! E Sonic è quello che fa così! Mmm! Capito? Va bene! Paolo che cosa vuoi nella calza della Befana? Te lo spiegherò alla fine del video! Ah ok! Poi c'è la calza della principessa di Sonic Isel che è brutta quella principessa! Il regalo come l'anno scorso ci sono i giuglieri! C'è la sorpresa sopra nella calza! Va bene! Poi la dolfina è bagatta! Ci ho provato con questo! Va bene! E da uvosauro come l'anno scorso potete trovare il dinosauro all'inne! Fuori dalla calza! Diciamo! 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 Poi da 285 grammi potete trovare la calza dei mecconti! Allora! Allora! La calza dei mecconti! Oddio! Questo lo voglio questo! Voglio quello più grande! Con la doppia sorpresa! Le dolcicolosità Dolphy! Perché non c'è scritto la calza ufficiale? Boh! Ma nella calza normale dei meccontrote la calza mini non c'è la calza ufficiale! Va! Beh! Grazie Dolphy di aver fatto le calze dei meccontrote! Fallo tutti gli anni! Perché i meccontrote fanno le grandi uova da... Ma io non sono uscito a trovare! Ho trovato solo... Ho comprato solo queste uova di Pasqua normali! No quelle... Sì! Lo sappiamo! Laura Laura News! Le uova di Pasqua dei meccontrote normali! C'è anche un chilo ma costa tantissimo! Certo! Costano 20 euro! Puoi trovare le uova di Pasqua dei meccontrote che costa un chilo e poi ci puoi farci! Va bene! Va bene! Le uova di Pasqua dei meccontrote! Va bene! Ok! Puoi trovare le doppie sorprese ma mi sembra che si trovano anche le sorprese delle uova di Pasqua e le doppie le scambierò e le buttalgo! C'è la casa dei meccontrote! Guardate com'è carina! Sì! Per l'epifania del 2024 ci sono tre nuove licenze! Meccontrote pelle della Pasqua degli altri anni! Meimai della Pasqua dell'anno scorso e anche Sonic della Pasqua dell'anno scorso! Guardate Sonic! Wow! Ma non lo compro! Ma a te ti piace Sonic? Vado a dormire! Ah perché sei messo il pigiama? Guarda ho il pigiama di Sonic! Ah perché hai messo il pigiama durante la ripresa va bene? Mi piace! Ho il pigiama di Sonic perché c'è Sonic! Compratelo Varian! Compratelo la calza di Sonic! Ah va bene! E la doppia sorpresa va beh! Poi c'è anche la mazzicalza di Bing! Con la doppia sorpresa e i dolci! Golosità! La doppia sorpresa possono trovare i stickers e quelle sorprese che si trovano nelle uova di Pasqua! E infine Bluey! Quello che abbiamo trovato è la stessa dell'anno scorso! Il regalo può trovare gli sticker grandi di Bluey e i memori di Bluey! Comunque è sempre diversa o uguale! Ma comunque è sempre uguale! Ma che cosa ci fa nella mia casa? Scusa Puffo Sapientone! Rimettila a posto! E poi da 300 grammi potete trovare le casse della Befana della Dolphin da 300 grammi! Quelle normali e semplici! Ah! Quelle normali e semplici! Che bello! Potete trovare? C'è su cui potete trovare! Ma gli ovetti della Dolphin non si possono trovare! Quelli riferimenti a Sonic, a Hermes, a Bluey! Non ci sono quegli ovetti! Ma ci sono gli altri dolci rispetto agli altri! Qua potete trovare quella calza di bavo natale! Così! A caso! Poi potete trovare un bellissimo pupazzo di neve! Con la faccia da tirchio! A 300 grammi come sempre! E la rena Rudolph! Che c'è scritto nel capello! Uvaraia! Merry Christmas! Bene! E con la maglietta verde! E con la calza... Sembrano tipo le calze dei più personaggi di un cartone animato! Boh non lo so! Non lo so! Non lo conosco! Va bene ragazzi! È durato abbastanza quindi iscrivetevi al canale! Sì! Ma prima... Paolo! Sì! Cosa c'è Uvaraian? Che cosa vuoi nella calza della beffana del... La beffana dell'epifania? Allora! Allora Uvaraian! Io voglio questo! La mini calza di Sonic! Questa! Che... Ehm... Lo voglio come personaggio degli universi! Quando hai ingricchiuto al Tom Holland perché è molto bello! Voglio questa qua! Della Dolphin! Ah! E poi voglio questo! Aspetta Uvaraian! È una sorpresa! Guardate! Guardate! Wow! Questa la voglio! La calza della beffana di Super Mario! Che beeeella! Forse lo comprerei! Io l'odio Super Mario! Quindi... Non lo compri! Non la comprerai! Sì! Forse il prossimo anno faremmo... E lo registreremo più tardi forse! Ma... Prima la calza Dolce Toys! E poi faccio vedere tutte le calze Kinder! Che le sorprese si... Ma perché Kinder metti le sorprese così? Perché me contro te non l'hanno fatto? Ci risiamo! Quindi... Io lo voglio la calza di Super Mario! Anche io ho la calza di Super Mario! Lo voglio! Siamo insieme! Lo compriamo insieme la calza! Ci vediamo nel video del Paolo Polignovo! Gli universi! Il canale ufficiale delle calze della beffana! Quindi... Non abitatevi! Ciao!